A maggio a Palermo votate per Fabrizio Ferrandelli, perché è importante, un giovane con passione politica, idee, amore per la propria città, vinca e diventissima. Dico per una città bella come Palermo, che ha molte cose in comune con la città di Cagliari, dove ho vissuto in queste ore i stessi sentimenti di passione e voglia di partecipazione di tanti cittadini e cittadini che hanno a cuore il futuro della città e che Fabrizio Ferrandelli governerà.